Cominciamo con una sfida uno contro uno. Sì, d'accordo. Un tipo elettrico come Pikachu dovrebbe essere in vantaggio con uno d'acqua come Primplup. Staremo a vedere, non si sa mai. Comunque finisca la sfida, penso che sarà emozionante. Quel Primplup sembra molto sicuro di sé. Bene, Ash, lascio te l'onore della prima mossa. Ti mostrerò che cosa sa fare il mio Pikachu. Fa' attenzione al suo super fulmino. Usa Ferrardini. L'ha bloccato. Hai visto, ha assorbito l'attacco. Come ha fatto a respingere il super fulmine? È pazzesco, guarda, Primplup non si è fatto niente. Il ferroartiglia è una mossa tipica dei Pokémon acciaio e se è potente può essere usato per difendersi dagli attacchi elettrici. E pensare che il super fulmine è proprio la mossa che ha reso celebre Pikachu. Quel Primplup è davvero forte. Adesso capisco come ha fatto Kenny ad arrivare alla finale di quella gara. E adesso tocca a me, usa per porbecco, vai! Tienti pronto, Pikachu! Super velocità, adesso! Oh no! Ha fatto una schivata eccezionale! Attacco con acciaio, vai! Primplup, bollaraggio, adesso! Sì, bravissimo! Primplup! Bel colpo, Kenny, ma non abbiamo ancora finito. Una maniera un po' insolita di usare il bollaraggio. Beh, per un coordinatore è un'ottima dote riuscire a personalizzare i suoi attacchi. Sembra che quel moccioso sconosciuto stia dando al celebre Ash una lezione di combattimento. Beh, quello è un Primplup ed è un Pokémon molto forte. Elegante e potente. Una resistenza eccezionale! Mi è venuta una splendida idea! Credo di conoscerla! Catturiamo quel portento di Pokémon per Jesse, va bene ragazzi? Voi siete pronti? Vai!